Di Letta Miatello, l'ex vigilessa accusata di aver ucciso i propri genitori, è stata rinviata a giudizio per duplice omicidio volontario. Il dibattimento si aprirà il 21 febbraio del prossimo anno davanti alla corte d'assise di Padova. L'accusa, nei confronti della donna, è di aver massacrato il 27 dicembre del 2022 la propria madre con 24 colpi in testa e alle braccia con oggetti contundenti e taglianti. Una violenza aggravata dalla crudeltà. La 52enne dovrà rispondere anche dell'omicidio del padre che non si trovava nella camera da letto dove c'è stata la violenza sulla madre. L'uomo, infatti, si trovava in soggiorno. Giorgio Miatello, però, è morto il 28 febbraio di quest'anno dopo due mesi di sofferenze.